Siamo con Mirko Garzonio, che è il direttore artistico del Corpo Musicale, a quale chiediamo quali sono le attività che offrite ai vostri iscritti. Le attività che offriamo sono molteplici, dal corso allievi strutturato in tre diverse soluzioni, che sono appunto il corso di propedeutica, che è adatto a bambini dai 3 ai 7 anni, il corso innovativo di quest'anno, che è l'Orchestra Giovanile Arsaghese, che comprende ragazzi tra i 7 e i 17 anni, e poi i corsi tradizionali, che sono invece di divulgazione musicale normalissima, dai 7 anni in su, sostanzialmente. Un ultimo particolare, di quanti componenti è composta la banda di Arsaghese? La banda è composta tra i 35 e i 38 elementi circa, diciamo, perché poi dipende sempre un pochettino a volte dalle defezioni magari dell'ultima ora. Comunque il gruppo Sabile appunto è attualmente di 38 elementi ufficiali. Ok, grazie, grazie mille. Prego.